Assessore, anche questo è un intervento atteso da tanti anni? Un importante intervento su un'infrastruttura come questa, che è il sottopasso di Ponte Sasso, dove siamo già intervenuti due anni fa sul parapetto in alto, dove cadevano dei massi, perché naturalmente quando il calcestruzzo è consumato, è usurato, sporgono dei ferri, a quel punto non c'è più tenuta. Come vedete in tutta la parte bassa, dove interverremo, non solo, faremo una bella tinteggiatura, sistemeremo tutti quelli che sono gli attraversamenti pedonali dove siamo qui, con dei nuovi parapetti, quindi una nuova recinzione, sostituiremo anche le lampade LED proprio per favorire una migliore illuminazione e un minor consumo, visto che è un tema anche molto attuale e nello stesso tempo andremo a rintinteggiarlo tutto. Ecco, questo è un intervento di messa in sicurezza sia delle auto, ma anche e soprattutto per l'incolumità di persone, perché è un importante attraversamento di quello che è un po' la periferia verso il mare, un luogo strategico, molto visitato e appunto, come si diceva prima, molto atteso, per cui diamo una risposta sostanziale. Lo facciamo grazie ad un finanziamento che siamo riusciti a captare, diciamo, ministeriale, per la resilienza, che proprio era su questo indice di lavori, per cui parliamo di 330 mila euro, l'intervento economicamente importante, ma anche per lo stesso spazio e per gli stessi residenti significativo. Quando partiranno i lavori? I lavori, allora, entro quest'anno metteremo a bando appunto quello che è l'intervento, i lavori partiranno per i primi mesi dell'anno per essere pronti per la prossima stagione balneare. Ecco, Sessore, ma a proposito di tinteggiatura, sta pensando anche ad un progetto di street art? È possibile? Questi luoghi sono strategici anche per questo, perché comunque diventano degli spazi di passaggio, di attraversamento, ma anche culturali, dove i ragazzi si possono esprimere. Sicuramente in un secondo tempo proveremo a candidare qualche scuola, proprio per favorire questo tipo di intervento, cosa che faremo nei prossimi giorni sul sottopasso di Vallato. Sempre più i giovani devono essere protagonisti. E questi sono spazi che a loro piacciono e anche a noi.